Mario Cordone, dunque un buon primo tempo da parte vostra senza rischiare praticamente nulla, poi dal gol del vantaggio è cambiata completamente la partita in favore dell'Olimpia agnonese. Oggi sapevamo che era una partita abbastanza complicata, sappiamo pure che noi siamo una squadra che forse per date alla mano non riusciamo mai a ribaltare, quindi c'era proprio quell'attenzione e quella preparazione di partita cercando di vingerla subito. Forse nel primo tempo si poteva fare meglio, pure perché siamo stati bravi a creare tanto, anche se poi in fase di finalizzazione forse è mancato qualcosa, senza rischiare. Poi sull'1-0 loro abbiamo avuto anche qualcosa per reagire, però come ho detto prima, sotto questo punto di vista bisogna cercare di crescere in futuro e l'Agnone ha meritato di vincere. Assolutamente, si chiude comunque una stagione che vi ha visto chiudere il campionato al terzo posto, è stata comunque una stagione importante per il campo di Pietra? Ma io penso che è stata una stagione non importante, importantissima, c'è stata una grossa crescita e anche oggi ai ragazzi gli ho detto queste sono quelle partite che ci devono far crescere. Naturalmente al di là poi di quello che succede in campo dal risultato sono le prestazioni che fanno le differenze e comunque dando merito alla vittoria dell'Agnone, riconoscendo che loro hanno meritato di vincere, penso che comunque oggi la squadra ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno e di potersela giocare con tutti. Quindi questo è da dove ripartire per poi cercare sempre di crescere.